I cancellieri esperti in forza al Palazzo di Giustizia di Caltagironia aderiranno allo sciopero nazionale indetto dal neocostituito comitato delle medesime figure professionali. Martedì prossimo 8 ottobre è previsto un settim di protesta dinanzi al Palazzo di Giustizia di Catania. Le adesioni su scala nazionale hanno già raggiunto la soglia del 50%. Alla base delle loro rivendicazioni si pongono più motivazioni, tra cui prioritariamente quella del dimensionamento. Sul piano pratico, in materia di progressione, si tratterebbe di una sorta di appiattimento professionale verso il basso. Secondo le direttive del Ministero e gli accordi raggiunti con determinate sigle sindacali del comparto Giustizia, le figure apicali delle varie aree rischiano di essere formalmente dimensionate, ma mantenendo oneri e responsabilità di cui queste figure professionali attualmente rispondono già. Alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Caltagirone, i cancellieri in organico sono 12. Tutti loro aderiranno allo sciopero e si regheranno al Palazzo di Giustizia di Piazza Verga a Catania per prendere parte al sit-in di protesta. I manifestanti sono intenzionati a fare sul serio e a non mollare, in quanto lo stato di agitazione permarrà sino alla soluzione dell'avvertenza. Al Palazzo di Giustizia di Caltagirone, con l'adesione dei cancellieri allo sciopero nazionale, indetto per il prossimo 8 ottobre, potrebbero quindi registrarsi disagi e contestuali rinvii delle udienze in calendario. Grazie per la visione!